Sostenere le start-up, dare un percorso di sviluppo per accompagnarli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle start-up è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati come società di Intesa San Paolo, proprio come Intesa San Paolo Innovation Center, con l'obiettivo di mettere insieme la domanda e l'offerta di innovazione, quindi far incontrare le migliori eccellenze, oggi ne abbiamo qui tantissime, di innovatori che hanno avuto delle idee imprenditoriali importanti e quelle che sono i bisogni dell'innovazione, perché le grandi corporate, ma anche le PMI hanno dei bisogni di innovazione, il sistema economico sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione.